Ciao a tutti, oggi vi darò la ricetta per preparare questi buoni e gustosi mini muffin. Per preparare 20 mini muffin andremo ad utilizzare 60 grammi di farina, 50 grammi di zucchero, un uovo intero e un tuorlo, 20 grammi di panna fresca, 50 ml d'olio, un cucchiaino raso di lievito, 25 grammi di gocce di cioccolato e 120 grammi di pesche sciroppate. Per finire uno stampino piccolo in silicone e un pirottino di carta piccolo. Ho mescolato le uova con lo zucchero, adesso vado a mettere il lievito e la farina e continuo ad amalgamare. Una volta che abbiamo mescolato bene vado ad aggiungere la panna, l'olio e continuo ad amalgamare. Prima di tagliare le pesche a pezzettini, le ho prese e le ho tamponate con della carta da cucina. Questo perché io le ho prese sciroppate, ma se invece voi le prendete fresche, potete evitare di tamponarle. Adesso vado a prendere un pirottino di carta e lo vado a inserire all'interno di quello in silicone. Adesso vado a prendere uno o due pezzettini di pesca e li vado a inserire sul fondo. Adesso vado a mettere le gocce di cioccolato sul mini muffin e vado a cuocere in forno per 15 minuti a 180 gradi. Ecco qui i mini muffin, ciao a tutti, spero che questa ricetta vi sia piaciuta.